Ostili a guardia di una posizione vicina. Recuperiamo gli antivirali prima che li portino in un luogo più sicuro. Entra nella voragine e localizza la sala ponte. Ok, ora trova il detonatore. L'esplosione aprirà una breccia che ti porterà dritto all'interno della base. L'esplosione aprirà una breccia. 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 Sorgente segnale criptato Bene, potremmo intercettare le comunicazioni dei players Sorgente segnale cripto Sorgente segnale cripto Sorgente segnale cripto Trasmissione nemica intercettata Qui Viverna, preparate gli elicotteri Dobbiamo portare via gli antivirali La divisione si è infiltrata nel complesso Nessuno di quegli elicotteri deve decollare Chissà cosa apre questa Dà un'occhiata I container sono pronti per il recupero A che punto sono gli elicotteri? È questione di pochi minuti Ci stiamo lavorando Merda, ricevuto Cerca di tenere a terra quegli elicotteri E' un'occhiata Grazie a tutti. 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 Siamo stati compromessi. Rinforzate l'ingresso principale. Grazie a tutti. 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 Sistema sospeso. Sistema sospeso. Sistema riattivato. Grazie a tutti. 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 Thunderbird. Thunderbird. Grazie a tutti. Agendo. Agente a terra. Grave trauma rilevato. Campioni in sicurezza, stiamo per uscire. Ricevuto, ottimo lavoro. Bumbo la portatile nelle vicinanze. Sono colpito, sto perdendo il controllo. Ah, che ti fa come... Quell'elicottero ha centrato le turbine, siamo bloccati. Viverna, dovete evacuare a piedi. Ora, cazzo, quegli antivirali ci servono. Volete che scappi? Credevo mi conosceste un po' meglio. È un ordine, Viverna. Viverna, vicino. Stati su quell'Hogal Tratte, negli assicurare il resto degli alcinali. Il team di supporto proteggerà i cilindri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.